buona giornata benvenuti a tutti questa è la rassegna stampa giovedì 13 agosto 2020 canale 17 di fano tv pronti come sempre per iniziare una nuova giornata insieme una nuova giornata con l'informazione di fano tv appunto con la lettura dei giornali cominciamo dal santo di oggi vediamo il santo che festeggia la chiesa cattolica oggi è san cassiano il sole è sorto alle 6.12 tramonterà le 20.19 e adesso vediamo il tempo cielo sereno poco nuvoloso per la giornata di oggi secondo il bollettino della protezione civile delle marche temperature stazionaria in lieve aumento il mare è quasi calmo poco mosso durante le ore pomeridiane per domani siamo alla vigilia di ferragosto 14 avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente durante le ore pomeridiane specie nelle zone interne non si escludono però brevi e isolati fenomeni pomeridiani nel settore montano della regione le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti a regime di brezza il mare sarà quasi calmo per la giornata di ferragosto la protezione civile delle marche prevede cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone montane non si escludono brevi e isolati fenomeni pomeridiani nelle zone interne le temperature saranno in lieve diminuzione probabili condizioni tempo stabili anche nelle aggiornate di domenica e anche quella di lunedì e allora andiamo a vedere adesso come facciamo sempre a quest'ora del mattino la situazione al mare direttamente con le immagini che arrivano da tom il nostro bagnino che vedo anche oggi in buona compagnia soprattutto di un cielo terzo di un mare splendido buongiorno tommy buongiorno marco buongiorno a tutti allora anche oggi giornata splendida vedo che allora intanto sembra quasi un tramonto più che un'alba non so tra l'altro tra l'altro ti dico questa curiosità forse non tutti lo sanno ma quando si deve girare un film e magari scene che devono richiamare il tramonto in realtà i registi convocano tutti all'alba pre all'alba perché le riprese vengono meglio però poi sembra un tramonto quindi insomma questa è una tecnica è un segreto che mi hanno detto un po di tempo fa che adesso mi è tornato alla mente riguardando questo allora oggi bandiera bianca immagino no sì sì assolutamente assolutamente bianca giornata splendida ma condizioni meteo marine favorevoli temperature molto elevate anche oggi quindi insomma è una bella giornata di soli per venire al mare ci sono i turisti tommy ci sono ma sì sì tutti i giorni abbiamo parecchia affluenza anche noi siamo stupiti di quante persone vengono vengono ogni giorno ci sono da dove arrivano ma guarda noi abbiamo avuto una discreta affluenza di francesi olandesi tedeschi benissimo tra l'altro parleremo dei turisti parleremo anche della loro presenza qui parleremo anche di quelli che invece vanno dall'altra parte del mare dove sei tu dalla Croazia che adesso saranno costretti a fare il tampone o mettersi in quarantena va bene ciao Tommy andiamo a leggere i giornali tamponi dopo le ferie questo è il titolo d'apertura del Corriere Adriatico edizione di Pesaro la linea dunque è la linea dura quella del governo risalgono perché i contagi dunque arriva il giro di vite del ministro della salute test obbligato entro 48 ore dalla ritorno da Spagna Grecia Croazia e Malta e insomma mi risulta che sono tanti anche i fanesi che sono in questo momento in giro per le spiagge della Croazia o nelle varie isolette tipo Kvar che è una delle mete più ambite poi a centropagina Fano Grosseto il flop di Centralia ancora oggi due pagine il Corriere Adriatico dedica a questa incompiuta quattro anni di studi stroncata dopo tre mesi poi verso le regionali candidati tra sfotto accuse e dispetti si parla delle schermaglie degli sfotto elettorali di una campagna elettorale che diventa sempre più calda e che sfocia anche in questi dispetti che vedete in questa piccola fotografia di cartelloni buttati a terra cartelloni divelti e insomma questa è un po' la situazione in particolare a Pesaro dove alcuni cartelloni sono stati buttati giù sequenziali si chiamano tecnicamente contenziosi e revoche appalti la bestia nera dell'amministrazione poi pestaggio di gruppo alla Notte Bianca a Vallefoglia sono tre le persone finora denunciate ma i carabinieri sono sulle tracce anche di altre persone in trasferta da Rimini invece per rubare il Fano Center 1500 euro di occhiali la città invece ora raccolga le eredità di Pansieri Pesaro Don Di Giorgio ricorda in Duomo il docente anche il sindaco suo ex alunno in prima fila il resto del Carlino a centro pagina il miracolo, il miraggio scusate dei documenti uffici pubblici irraggiungibili utenti sempre più arrabbiati tamponi per chi rientra dall'estero Covid la regione seguirà il governo test obbligatori per i turisti di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna agosto ombrelloni introvabili rimpallo di accuse guerra tra bagnini e albergatori a fine stagione poi dicono, anzi minacciano faremo i conti Duomo gremito per l'abbraccio a Luigi Pansieri l'addio in cattedrale a Pesaro sei stato un dono a Urbino festa del Duca in mascherina la impone un'ordinanza, botte e pugni vicino alla disco tre denunciati due gruppi di ragazzi si erano azzuffati gli identificati sono tutti dell'est a Fano invece un furto lampo di occhiali gucci due arrestati uno distrà il commesso dell'ottica l'altro li nasconde ma poi arriva la polizia lo sport, basket, supercoppa debutto VL il 3 settembre contro Brindisi calcio, serie C il doppio colpo ora è ufficiale Gelonese e Marchi sono del Vis Pesaro entriamo nelle pagine interne la stretta sumo vida e vacanze test test a chi torna dalle zone a rischio contagio in risalita summit del governo regioni dopo ferragosto probabile inesprimento di misure nelle discoteche mentre il virologo parla di focolai sotto controllo il 90% degli infetti ha sintomi lievi parla questa mattina Clementi della San Raffaele il quale dice che ovviamente continuano a crescere in Italia i casi di coronavirus si stanno sommando però tre diversi fattori il primo l'aumento degli infetti che si sarebbe fisiologicamente verificato in Italia in base alla progressione della curva secondo aspetto i contagi di ritorno che qualcuno ha ironicamente definito dei figli di papà cioè di coloro in prevalenza giovani che hanno deciso di andare in vacanza in paesi dove l'allerta sanitaria è ancora in corso ignorando i rischi connessi infine terzo i focolai esplosi tra gli immigrati per Clementi però tuttavia la situazione rimane sotto controllo il 90% dei positivi prosegue è asintomatico oppure paucisintomatico cioè con pochi sintomi da un punto di vista clinico non ci sono quindi preoccupazioni non dimentichiamo che è pure aumentato il numero dei tamponi eseguiti in modo mirato in base ai risultati dei test sierologici la convivenza però con il Covid si preannuncia piuttosto lunga il vero interrogativo però sarà che cosa succederà da ottobre da ottobre in poi con l'arrivo della stagione invernale anche se non credo dice ancora Clementi ci troveremo nella situazione dei mesi scorsi il fatto sta che i giornali questa mattina scrivono ancora tante pagine sul Covid-19 questa è la pagina del Corriere Adriatico test rapidi tamponi se si arriva nelle marche da quattro paesi ad alto rischio il Ministero ha predisposto il decreto che prevede esami anti-Covid per chiunque rientra in Italia da Spagna Grecia Croazia e Malta sulle terapie intensive ci sono 300 posti la Regione ha accelerato accelera sul piano scatta dunque la riorganizzazione delle strutture sanitarie in caso di un'altra pandemia percorsi dedicati nei pronto soccorsi e mezzi speciali per il trasporto dei pazienti va detto che il Governo sta chiedendo a tutte le regioni d'Italia di cominciare a predisporre a bisogno il Commissario Arcuri entro il 31 agosto di tutte le richieste da parte degli ospedali da parte della sanità a livello nazionale e dopo l'esperienza maturata durante il periodo emergenziale si legge nella delibera del 5 agosto sarà necessario riorganizzare le attività ospedaliere prevedendo servizi di diagnostica dedicati o in alternativa garantendo una frequente sanificazione degli ambienti e la programmazione degli accessi la Regione Marche ha stanziato ulteriori 5 milioni di euro per 105 posti letto di terapia intensiva tra Torrete San Salvatore Fermo San Benedetto Iesi e la riqualificazione di 107 posti letto di sub intensiva dicevamo che i contagi per lo meno anche nella nostra regione sono da rientro dai paesi cosiddetti a rischio ma è vero titola il Carlino è vero anche il contrario cioè che ci si infetta anche in Italia in questo caso un francese si è infettato a Fano alla rientro nel suo paese dalla vacanza ha scoperto infatti di essere positivo lunga lista di contatti perché adesso bisognerà rintracciarli tutti quanti protagonista di questa storia un turista francese che ha soggiornato per un certo periodo a Fano durante l'intera durata della vacanza tutto è filato liscio nessun sintomo neppure il più blando ha potuto fare dunque suonare il campanello d'allarme ragion per cui questo villeggiante questo francese non si è risparmiato in cene passeggiate appuntamenti sociali una volta rientrato a casa però il quadro clinico è peggiorato così all'esito del tampone le autorità sanitarie francesi si sono messe in contatto con i nostri sanitari i quali hanno dato via libera come da prassi all'indagine epidemiologica per risalire i contatti con i quali l'uomo aveva avuto rapporti ravvicinate intanto ieri si è vista una di quelle scene che c'eravamo non dico dimenticati perché è difficile dimenticarsi queste lunghe code al drive point come al Codma di Rosciano ma comunque per un attimo le avevamo accantonate al Codma però sono tornate le tute bianche ieri mattina per 72 persone convocati riconducibili dal focolaio della Croazia ma anche bambini di un centro estivo e una donna sulla sessantina ha voglia di sfogarsi dice sono stata contagiata da mio marito che frequenta un bar sempre molto affollato e adesso eccomi qui a fare questa noiosa trafila sotto il sole poi parla anche un ingegnere della Saipem lavoro in un gasdotto in Serbia ho contratto il virus la situazione là non è delle migliori covid due positivi erano stati a Corfu questo è il corriere di Fano accertamento contatti attivato poi i tamponi ieri al Codma test presentata a due persone dopo il caso dei sei ragazzi tornati dalla Croazia già contagiati tre familiari stretti l'equip dell'Aso è stata preallertata per le prossime due settimane andiamo adesso sulla pagina 17 del Corriere andiamo a Montecopiolo dove il sindaco Pietro Rossi dice qui il virus è stato portato da fuori ma ora dobbiamo recuperare i turisti abbiamo sempre avuto il controllo della situazione purtroppo c'è stato un danno d'immagine il sistema ha grippato dice la comunità si è già rimboccata le maniche venite a visitarci e intanto si candida ho deciso di candidarmi dice Rossi insieme all'assessore regionale Loretta Bravi so di chi o cosa ha bisogno del territorio solo chi vive l'entroterra può capire andiamo adesso invece sulla pagina del torniamo sulla pagina del resto del Carlino perché sempre sul Covid-19 il titolo è per le badanti l'allarme contagio per ora non c'è il distretto non sta registrando in provincia casi positivi legati al rapporto tra assistente e assistito e l'unico controllo sono comunque i test e i tamponi l'estate si sa è tempo di viaggi ma anche di rientri che in era Covid risultano alquanto problematici dal punto di vista sanitario soprattutto se si parla di persone che assistono soggetti fragili come gli anziani e dunque la preoccupazione è più che legittima ma appunto insomma pare che al momento la situazione sia sotto controllo il canto il caso Emilia Romagna il protocollo impone isolamento e tampone per le donne in arrivo da certi paesi e l'esibetta esposto dice solo durante il picco abbiamo avuto episodi ora il pericolo in realtà sono i giovani anche perché gli anziani davvero hanno capito che essendo l'anello debole di tutta questa catena se ne stanno ben attenti e si riguardano sul fronte dei contatti sul fronte delle distanze e quant'altro quindi sono molto attenti e nell'agosto complicato dal virus molti assistenti saltano le ferie le agenzie dicono forniamo a chi ne ha bisogno sostituzioni a ore i costi da un minimo di circa 7 euro cui va aggiunta anche naturalmente l'iva chiudiamo la pagina covid tutti noi siamo chiamati a raccogliere l'eredità dell'impegno sociale di luigi il professor luigi panzieri morto d'infarto qualche giorno fa all'esequie don marco di giorgio ricorda in duomo il professore sul ferretro niente fiori ma la bandiera della pace andiamo sulla pagina di fano invece residence metauro cappa irrespirabile ostaggi del depuratore aset e aset in silenzio l'allarme dei residenti diventa protesta dopo le segnalazioni cadute nel vuoto di sera costretti a chiuderci in casa perché il depuratore evidentemente emana cattivi odori interquartieri una pugnalata alla schiena il comitato per una viabilità sostenibile attacca la scelta dell'amministrazione stiamo parlando della variante di Gimarra in trasferta da Rimini al Fano Center rubano occhiali Gucci per 1500 euro una coppia romene-nazione uno ha distratto il commesso l'altro ha sostituito in 20 minuti 7 paia in esposizione mentre sotto ancora cronaca anziano ritrovato senza vita nel canale Albani il corpo avvistato a Cerbara siamo vicino Fano soccorse senza esito probabilmente il gesto è stato volontario il corpo di un pensionato 76enne celib è stato trovato ieri mattina intorno alle 11 galleggiava nel vascone all'inizio del corso d'acqua artificiale che alimenta la centrale idroelettrica a Fano l'hanno trovato poi quando ormai era purtroppo tardi tutto sembrava procedere in una sostanziale normalità dicono i vicini di casa che sostengono che il pensionato si sia mostrato lucido fino all'ultimo poi noi vi abbiamo raccontato che sarebbe dovuto andare a fare un'attacca in ospedale probabilmente aveva paura come succede spesso anche agli anziani insomma aveva paura di stare di stare male denunciati i tre picchiatori di Montecchio i carabinieri hanno identificato un terzetto dell'est il 2 agosto scorso prese a pugni tre giovani nella discoteca Villa Borghese li hanno denunciati per lesioni aggravate sono tre persone due ventenni e un 35enne dell'est ma residenti a Vallefoglie i carabinieri non hanno specificato l'origine ma su un fatto non hanno dubbi i tre sono responsabili ma ce ne sono altri dell'aggressione selvaggia avvenuta nella notte del 2 agosto scorso all'interno della discoteca Villa Borghese di Montecchio dove un gruppetto di stranieri ha preso a calci e pugni tre giovani del posto i buttafuori del locale nel parapiglia hanno fatto ciò che sono chiamati a fare cioè hanno messo alla porta tutti quanti aggressori e vittime e poi fuori si sono ritrovati a ridarsele o meglio qualcuno le date altri le hanno prese e quindi adesso sono scattate le denunce mentre sotto un anziano infila un braccio nel dondolo liberato dai pompieri l'intervento ieri mattina sorì a Pesaro i vigili del fuoco hanno allargato il telaio con un divericatore una brutta avventura per un ottantenne chi ieri si è ritrovato con un braccio incastrato in un dondolo da giardino per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a Montecchio invece scomparsa Fausta Venturini il sorriso di Fausta resterà nel cuore di quanti a Montecchio hanno avuto modo di conoscere i funerali della sorella di Toni Venturini scomparso di recente fondatore della Junior Glass dove lei ha lavorato vinta dalla malattia si terranno domani alle ore 16 nella chiesa di Montecchio e ancora dai giornali di questa mattina si parla del tutor il tutor che è stato installato tra Fano e Pesero sulla strada alle 16 qualcuno dice si serve ma anche a fare cassa reazioni disparate sul nuovo misuratore di velocità tra Fano e Pesero e non si sa neanche se ha già stangato qualche automobilista ma probabilmente sì anche perché il limite lì è dei 50 chilometri orari figuriamoci se si può andare in certe condizioni ai 50 l'ex comandante infatti della Polizia Stradale dice il limite dei 50 all'ora è troppo basso in questo tratto le auto spesso vanno troppo forte basta vedere i segni lasciati dagli incidenti qualcuno chiaramente guarda il bicchiere mezzo pieno l'altro mezzo vuoto ma comunque sta di fatto che probabilmente serve come deterrente ma certamente non ai 50 perché 50 non si va da nessuna parte vigili nel fine settimana arriva il turno notturno i sindacati non ci stanno la prefettura vorrebbe che il servizio partisse quanto prima già ad agosto dalle 1.15 alle 7.30 del mattino per coprire le zone più sensibili tra Fano e Montecchio sul pagina 6 del Corriere di questa mattina come dicevamo in apertura la questione dello scandalo anzi infrastrutture le marche arretrate il fallimento di Centralia 23 riunioni in 4 anni per fare il gioco dell'oca sulla Fano Grosseto l'incredibile flop della società di scopo stroncata dall'Anac ero paralizzato ora cammino l'equip di Pergola è speciale la luce nel lungo percorso di Silvano Goretti autista di Croce Rossa vittima di un incidente parla del lunghissimo percorso durato fino a qualche giorno fa che ha permesso questo 47enne di tornare a camminare e poi sotto Tari a San Costanzo nessuna promessa mantenuta il consigliere Carbone attacca l'amministrazione si conformino alla legge da Senigallia hotel e case un ferragosto da sold out cioè da tutto esaurito nel fine settimana solo camere a 2000 euro l'albergatore Rimini dice ok la PIL ma servono progetti prezzi alle stelle per due notti solo marketing mentre in spiaggia sono tornati gli artisti di si sabbi chi può e questa è una delle loro creazioni in spiaggia con la scorpacciata vedete una lisca di pesce e poi evidentemente una persona qualcuno che ha la pancia piena per aver mangiato abbondantemente poi c'è la fiera di Sant'Agostino stoppa ai lavori della Fagnani il nodo l'occupazione di suolo pubblico dei locali l'assessora Giuliani sta definendo la questione andiamo a vedere l'altra pagina torniamo su Fano per il resto del Carlino è già ferragosto tra piazza spiaggia e rocca in questo articolo si fa l'elenco di tutte quelle che sono le manifestazioni si comincia stasera con la birra d'Augusto poi arrivano le musiche di Morricone a Sassonia le feste negli chalet e si chiude con le orme la pandolfaccia c'è anche senza il palio il programma dell'iniziativa che si svolgerà all'anfiteatro Rastat e in centro festa del duca a Urbino ma la mascherina sarà obbligatoria il sindaco firma ordinanza che impone la protezione delle vie respiratorie per chi si trova in centro storico tutto il programma di oggi rievocazione delle arti belliche con la sala d'arme Aquila e poi sotto invece Mattias Martelli in scena con Raffaello l'attore Urbinate dialogherà stasera con Massimo Pugliani sul divin pittore la figura polietrica di Dario Fo siamo allo sport invece adesso con il Fano Fidani mette tutto in mano Traini il nuovo direttore tecnico Mauro lo vedete in questa fotografia che è stato scelto appunto da Fidani solo 4 giorni per allargare la truppa il 17 si parte per il ritiro che dovrebbe essere al prelato quindi praticamente a due passi da Fano vicino Montegiove gli alibi e gli abili scusate e gli arruolati sono in questo momento 11 con Di Sabatino e Zigrossi gli accordi sono ancora invece da trovare in tutto sono 11 infatti i giocatori sotto contratto ai quali si potrebbe aggiungere i difessori Di Sabatino e Zigrossi se si troverà l'accordo in questo caso e poi i giovani Mainardi Morsucci e Giorgini sono un totale di 16 elementi ai quali si potrebbero aggiungere anche alcuni giocatori in prestito dall'Ascoli o da una squadra di Serie A con la quale appunto Mauro Traini è in contatto ma la notizia se vogliamo è quella che il neopresidente Granata dopo aver detto che il progetto avrà come minimo una durata di tre anni ha anche ribadito che non essendo lui un esperto di calcio perché il mio dice è un esordio assoluto in questo mondo del mondo del calcio affido dice per cui mi affido totalmente a chi è esperto non avendo io competenze calcistiche sarà Traini a parlare in mia vece questa è la dichiarazione del nuovo presidente del Fano mentre sul fronte della vispesa Rogelonese Marchi adesso c'è l'ufficialità la vispesa lo definisce i contratti con i due big il centrocampista ha firmato addirittura un triennale l'attaccante invece per due anni l'attaccante si aggregerà al resto del gruppo il 17 di agosto mentre Gelonese sono contento dice si vede che qui c'è un progetto molto ambizioso chiediamo con la VL sarà già la vera VL ufficiale il calendario della Supercoppa ad Olbia sei partite tra il 3 e il 14 di settembre prima con Brindisi Biancorossi dovrebbero essere al completo al contrario di molte altre squadre e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata vi auguro di trascorrere la migliore dei modi chi può vada al mare a farsi un bel bagno rinfrescante chi invece non può può seguire i nostri programmi qui sul canale 17 per tutti gli altri ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.